Tra l'altro quando avete scoperto questo QT però ogni volta TAM POM sono proprio usi dei polsi PAM 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 con la spalla che diventa proprio stilistico interno esterno insomma ok quindi però ovvio che è qui uno guarda i gesti è quello che sbaglia tutti ma guarda che tecnica e invece è questo che fai a tecnica cosa fai qui e cosa devi fare qua niente quello è bello non devi fare niente solo restare rilassato e la forza si trasforma quindi a lunga distanza non usate i polsi e vi spappolate detto questo adesso cosa